Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Marco capitolo 4 versetti 35 a 41. La tempesta è calmata. Gesù stava nella barca con i suoi discepoli e si sollevò il vento forte, dunque la tempesta. Mentre Gesù dormiva, gli apostoli erano impauriti, la paura di morire e gridarono dicendo Maestro non ti importa che siamo perduti. Gesù si alzò e comandò al mare di calmarsi, dunque il vento cessò e anche il mare si calmò. Gesù rimprovera i suoi discepoli a dire che non avete ancora fede. E questo fatto è rimasto nel cuore degli apostoli vedendo che quest'uomo calmava il vento e anche il mare. Ma chi è costui che calma il mare e il vento? Dicono questi apostoli. Ecco quello che ci racconta il nostro ebrano. Questo fatto ci può ricordare il salmo 107. Un gruppo delle persone che attraversava diciamo il mare per andare a commerciare l'altra parte. Si sollevò dunque il vento. Ma questo gruppo non ha avuto la paura ma piuttosto a pregare. Dunque la gente si è messa a pregare e arrivò diciamo la calmata. Dunque il mare si era calmato. Dunque c'è questo piccolo paragone. Il gruppo pregava aveva fede. Invece gli apostoli mancava un po' di fede. Gli sono detto non avete ancora fede. Allora potremmo sottolineare due cose in questo nostro brano. La prima cosa è questo miracolo. Il miracolo in sé per sé non ha tanto significato ma piuttosto arrivare a Gesù. Chi è questo uomo che calma il mare e le acque. È lì che dobbiamo arrivare. Marco ci propone questo segno, questo miracolo per farci capire ma chi è questo uomo che già dall'inizio del Vangelo diceva il tempo è compiuto e convertitevi e credete nel Vangelo. Gesù annuncia il Vangelo non soltanto a parola ma con i fatti. Perché dovunque passa predica e guarisce. La sua guarigione è segno dunque di questa presenza del regno di Dio in mezzo alla gente. E qui Gesù non opera una guarigione a una persona ma piuttosto calma il vento e il mare. E come lo sappiamo il male rappresenta tutte queste forze malefiche. Dunque Gesù calmando queste forze dà segno proprio della sua autorità di venire dominare ogni cosa e anche di rinnovare ogni cosa, di ridare vita a chi non ce l'ha, di liberare l'uomo da ogni forma di possessione o di forma di schiavitù o di forma di disturbo. Dunque Gesù calmando il mare diciamo calma anche tutte le forze malefiche naturalmente sataniche che potrebbero distruggere l'uomo, che potrebbero ingannare l'uomo. E allora è perciò la seconda cosa su cui meditare è proprio il rimprovero di Gesù agli apostoli. Non avete ancora fede. Come lo sappiamo, no carissimi, non è il miracolo che produce la fede ma è la fede che produce il miracolo. Nel Salmo 107 che ho citato poco tempo fa il gruppo pregava, pregava, non si è lasciato dalla paura ma si è lasciato dalla preghiera. Gli apostoli producono il fatto contrario, l'effetto contrario. Invece di pregare si lasciano impaurire, si lasciano impaurire. Ecco, Gesù rimprovera gli apostoli ma voi non avete fede in me, io sono in mezzo a voi. Perché non avete fede in me? E così carissimi Gesù sta rimproverando anche ciascuno di noi. Perché non ci lasciamo nelle sue mani? Perché non confidiamo in lui? Perché quando succedono i problemi qualche volta ci sfuggiamo, non so di quale forze, invece Cristo è in mezzo a noi. Allora lui ci sta rimproverando. Non abbiamo ancora la fede in lui. Non crediamo ancora in lui. Non è che perché secondo noi Gesù non ha risposto alla nostra domanda e dunque è inutile invocarlo. No. Gesù risponde sempre, lui è sempre presente nella vita nostra, ma tocca a noi di credere in lui, tocca a noi di prenderlo e alloggiarlo tra virgolette nel cuore nostro e di metterlo davanti alla nostra vita. Cioè lui dovrebbe essere il punto fermo della nostra vita. Ecco quello che Gesù ci sta chiedendo nel nostro bravo. Allora invochiamo lo Spirito Santo di aiutarci di aumentare in noi la fede. Vi auguro una buona e santa giornata e Dio vi benedica sempre.